L'economia italiana ristagna e anche l'Umbria non si sente tanto bene. Causa principale la diminuzione degli investimenti e della domanda estera e quanto emerge dal rapporto di Banca Italia sull'economia della regione per i primi nove mesi del 2019. Previsioni non straordinarie per il futuro a breve. Alcuni settori industriali tengono come la meccanica, altri vanno a picco come la produzione d'auto. L'edilizia mostra lievi segni di recupero anche se la ricostruzione post-sisma procede a rilento. Su 1.400 domande presentate solo il 13% riferito a danni lievi ha visto la conclusione dei lavori mentre il 60% è ancora in fase istruttoria. La disoccupazione scende dal 9,9% del 2018 al 9,5%. Cresce il numero degli occupati, un'espansione trainata dalle donne, più 5,1%. Sorride il bilancio del turismo. Le presenze sono aumentate quasi ovunque con maggiore intensità a Spoleto, Gubbio e Orvieto. Sono tornate a calare invece nella Valnerina che continua a risentire della scarsa capacità ricettiva post-terremoto. Banca Italia fornisce anche i dati sul reddito e sulle pensioni di cittadinanza. I sussidi hanno portato nelle tasche di 22.000 persone una media di 450 euro al mese contro i 482 del resto d'Italia.